oh compari mio carissimo buongiorno scusa per te eh compa ecco te 10 minuti che sono qui eh compa come ben vedi mi sono accattato il bolide e quindi mi sono dovuto dare una sistemata che ti ho comprato? ti dico solo che non è una marmitazza che la senti da lontano proprio ah e dicami una cosa che colore è? compa mi chiedi pure una macchina di questa forza russa da apigliare il classico ma ti spieghi in breve la macchina allora tu la rapi con l'impronta digitale già si rapa tutta la capa di piedi sistema aria condizionata scena levetta tu giri chiaro levetta si rapa a me in su mondo arriva in aria fresca comunque aspetta ma che cazzo conto che vieni con me che ti faccio vedere che ne hai giocato? vediamo vediamo ma per sapere una marte cazzo a me lo sai che non gioca ragazzi che cazzo non gioca ragazzi non gioca ragazzi come va che questo è un macchinario vieni che adesso vuoi vedere l'option alla catena è un sistema d'apertura con l'impronta guarda tu puoi giocare dietro d'attacco rileva l'impronta si rapa giusto un attimo giusto un attimo senta questa è poesia pure ma solo dicendo cosa secondo me ci vanno poche voglio comunque ma si vede quando capisci proprio hai fatto un affare questa macchina lo vediamo usa marmita guarda è che il marco è chissà? chissà è una capra vici compa amò scusaccio che sta ispirando per provare vieni vieni pierdi sei chiave pigliela te sei un grande compa amò ah ma qua cosa? no è la mia pigliela ah sì ma grazie allora da raccomandmi c'è un giro tranquillo che è nuovo eccolo allora com'è compa è buon o non è buono compa è una bomba ma non per sapere ma sul casco hai compreso pure la macchina ma non lo hai comprato tu mi fanno abbinare la macchina perché? ah se è è stata delu per ricordo vai ah oh 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 Grazie a tutti.